Un'immagine che ti sorprende, una frase che ti cattura la mente, un rumore che ti chiude lo stomaco, una musica che ti ruba il cuore. Il cinema è tutto questo, è forte, emozionante, fantastico e a marzo ti aspetta su Sky. È il momento che ho atteso di tutta la vita. Una proposta unica per tutta la famiglia. Oltre 120 film ogni giorno. Devi solo decidere l'argomento. E tutte le sere, una straordinaria scelta di titoli diversi. Spero che tu abbia ragione. Con Sky puoi vivere il cinema nello spettacolare formato 16 noni. E con l'audio anche in lingua originale. E solo Sky ti offre un'esclusiva scelta di canali con tutta la magia dell'alta definizione. Hai l'immediata monta, è un ordine! Sette secondi per cambiare una vita. Sette nomi per un piano che cambierà la sua per sempre. Sette anime per la seconda regia americana di Gabriele Muccino. In sette giorni Dio creò il mondo. In sette secondi Dio distrutto il mio. L'ossessione della colpa, l'amore assoluto e il desiderio di redenzione. Non voglio metterti ancora. In un intenso dramma con Will Smith. C'è stato un suicidio. Rosario Dawson. Ci pensi mai alla morte? E Woody Harrelson. Che cosa vuole da me? Non si gioca con la vita delle persone, lo capisci questo? Perché ho la netta sensazione che lei mi stia facendo un grossissimo favore? Perché io ho la sensazione che lei se lo meriti. Che ne dite di risata e raffica e divertimento per tutti? E allora, preparatevi ad indagare sul caso del secolo in compagna di un travolgente ospector. La Pantera Rosa 2. Closot è tornato a fare più danni che mai. Antichi nemici e nuovi disastri. Pardon, mi spiace. Per il nuovo capitolo con il personaggio creato da Blake Edwards. Closot. Closot. Jacques Closot. Closot. Buongiorno, sono l'ispettore Jacques Closot. Idiota. Con Steve Martin. Qualsiasi cosa sia, sono d'accordo. Jean Reno. Grazie. E Andy Garcia. Io la capisco, Penis. Mi piace, signora. Oh, angioletti. Tutto perdonato. E se siate in cerca di amicizie grandi come il mare è tenere come una pesciolina. Pogno sulla scogliera è un'esplosione di fantasia. Pogno vuole diventare un essere umano. Un essere umano. Non voglio delle gambe fatte così. Dalle profondità dell'oceano alla scoperta del mondo umano. A Pogno, Sosuke, piace. Il premio Oscar a Yao Miyazaki firma uno dei film più visti in Italia nel 2009. Pogno è diventata una bambina ed è ritornata. La magia dell'amore supera ogni ostacolo. Se la giornata è grigia e siete un po' giù, se per coccolarvi il morale mettete a dura prova il vostro conto in banca, guardatevi allo specchio e ammettete. I love shopping. 200 dollari di biancheria intima Mark Jaco. 78 dollari per i miele di lavanda selvatica. Assaggio ai piedi, questo non lo commento nemmeno. Dal romanzo best seller di Sophie Kinsella. Non aprire quell'armadio. Una commedia per mani bucate e spiriti allegri. Dai consigli sui debiti alla gente e tu ne sei piena fino al colpo. Con Ayla Fisher e Hugh Dancy. Lei è rimasto il cartellino attaccato sugli occhiali. Come fai a pagare un debito di 17.262 dollari e 70 c'è spesa? Potrei vincere alla lotteria? Nessuno può fermare la più potente banca del mondo. Nessuno può incolparla di controllo mondiale e omicidio. Chiunque tu sia, The International è pronta a colpirti. Io dirigo una squadra dell'Interpol che indaga sulle operazioni illicite di una banca con sede in un settore. Chiunque sia trovato nella posizione di contrapursi a questa banca o è finito morto o è scomparso. Una pista di denaro sporco. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Una verità sconvolgente. Il sistema garantisce la sicurezza dell'IBC. Perché sono tutti quanti coinvolto. Una realtà spietata. Non c'è niente di complesso in un omicidio a sangue freddo. Un action thriller con Clive Owen e Naomi Watts. Io credo ancora, anzi io so, che c'è un modo per abbattere questa banca. E lei mi aiuterà a trovarlo. E con i canali Sky Cinema HD l'offerta è sempre più ricca ed esclusiva. Vivi la grande emozione con lo spettacolo del cinema in alta definizione. Marzo ti conquisterà con prime visioni assolute, avventure straordinarie e storie da non perdere. Siamo il cinema, questo è il tuo mondo, questo è Sky.